Grazie al contributo di molti volontari, è un successo per noi quest'anno è la presenza di molti giovani che ci vengono a chiedere di collaborare. La donna ha fatto il cemento, capello, piedi, 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 niente, azienda di ricora che lascia capello. Quindi siamo in ordre a rimanere sediti durante tutta la durata. Ashfield in Bambola, un forte applauso. Sei contenti di essere qua questa sera? Dopo averti visto sì. E gola che fortuna! Non c'è Bambola, se non lei il simbolo delle bambole fin dagli anni 50. Oh I'm having so much fun! Oh I love you, kid! La nostra bella Barbie! Oh lei fa, si sfoglia, si denuda anche se c'è inverno, arriva sempre la primavera. Devo sentire l'applauso fino alla fine ragazzi, non vi sento, forza scaldiamo questa Ceregnano! Dai l'energia, l'energia di Ceregnano le vogliamo qui stasera. Eccole qua le nostre bellissime modelle per trascorrere queste belle serate di fine estate. Le vedete una dietro l'altra, una più bella dell'altra. E questo è il nostro negozio ufficiale di Rovigo Peperoncino. di fare un altro giro per recuperare gli applausi. Bravissime ragazze! Mano e telefonini mentre sono là, potete partecipare. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato e soprattutto ricordiamo anche gli sponsor che hanno fatto sì che questa bellissima festa sia stata così importante e così ricca di eventi. Quindi grazie ancora. Porto i saluti del sindaco che purtroppo è dovuto scappare. Quindi però grazie, grazie a tutti per la partecipazione, grazie alla Proloquo. Ci vediamo il prossimo anno di nuovo con la Fiera di Ceregnano. Grazie infinite!